Dal 22 al 24 novembre a Pisa ascolterai un'altra musica che parla di te. Le sue melodie si basano sulla redistribuzione delle ricchezze, su sanità e scuola pubbliche, sulla giustizia sociale, sulla difesa dei beni comuni e dell'ambiente. Chiediamo a te che hai come primo obiettivo i diritti delle persone e non gli interessi privati, che lotti contro i processi di impoverimento e di privatizzazione nelle città, di diventare produttore della nostra nuova musica e di darci un piccolo contributo economico. Cambiamo ritmo e prospettiva. Ancona, Brescia, Brindisi, Firenze, Imperia, L'Aquila, Messina, Roma e tante altre città porteranno gli strumenti a Pisa per scrivere un nuovo pentagramma del comune. Aiutaci a pagare le spese di questo incontro. Ti aspettiamo al 22, 23 e 24 novembre. Consulta il programma su www.unacittaincomune.it e sostieni economicamente la buona riuscita dell'iniziativa con una donazione su Shiny Note al link in sovraimpressione.